Musica Bella a tutti ragazzi, io sono Sarge Zagero e ben tornato sul mio canale Oggi siamo tornati con un nuovissimo video sulla serie di Fortnite Mi raccomando non vi perdete anche il video pomeridiano perché esce la beta di Avengers Endgame Ragazzi, allora oggi andremo a vedere con questa serie dove cazzo si è andato a schiantare il martellone di Thor Accolta Dobbiamo dirigervi, ecco vi apro la mappa Qui tra Borgo Bislacco e la nostra foresta e c'è questo grandissimo cratere Dove all'interno vi è posizionato il martello di Thor Ah ragazzi, possiamo completare la missione solamente se abbiamo come skin Thor ovviamente Altrimenti questo qua ce l'ha preso under culo, ce l'ha preso perché si è preso un'altra skin Ciao combà, e mo devi startare un'altra volta, noi invece gli abbiamo soffiato il martello sotto il naso Ragazzi, la missione è già completata, grazie mille per aver visto il video e per essere rimasti con me fino alla fine Mi raccomando, continuate a supportare il canale, iscrivetevi, attivate la campanellina Commentate, condividete, lasciate un bel like E vi ripeto, non vi perdete il video pomeridiano perché merita davvero tanto Noi ci vediamo in live su Twitch Mi raccomando, vi lascio qua sotto il link in descrizione, andate ad iscrivervi E niente, ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi, saluta pure il figlio di Odino, Thor Grazie a tutti